C'è un signore che dopo aver provocato per mesi e mesi e mesi che provoca, che rompe le palle, dopodiché ha insistito, dopodiché basta, ho detto figlio mio, speriamo di non trovarci mai. Lui ha detto che se mi trovi che cazzo mi fai? Mi picchi, fai, al massimo tu mi offrirai un caffè. Se la vedo, siccome la reputo un uomo di merda, le sputo. E lui ha detto che veniva evidentemente dove arrivavo io. Io sono arrivato con la macchina, ho parcheggiato, lui mi aspettava da dieci minuti. Ogni promessa è un debito, io ho bevuto l'acqua che avevo, anzi che devo portare via, e me la prende per favore, e gli ho sputato l'acqua che avevo in bocca, appunto basta. Lui lo desiderava e l'ha avuta per due volte.